E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di recensione più doppiaggio Come vedete la voglia di mettere il green screen non è ancora tornata E comunque volevo parlarvi di un film filmuccio molto carino Che potete trovare su Prime Video Semplice Che è a dir la verità un rifacimento di un film degli anni 70-80 Perché c'è anche un sequel Chiamato Il Giustiziere della Notte Quante volte non abbiamo sentito dire Il Giustiziere della Notte Cioè è palesemente un cult Molto molto cazzaro degli anni 70-80 Con una trama che ti aspetti dagli anni 70-80 E niente partiamo direttamente con la trama Questo è uno degli ultimi film di Bruce Willis In cui lui fa un dottore praticamente A cui uccidono la moglie e quasi stuprano la figlia In un tentato furto a casa sua Che a differenza del primo capitolo invece In cui quello fatto degli anni 70 Lui non è un dottore ma un architetto E la figlia gliela stuprano proprio lì da quello che ho capito E niente comunque il punto è questo Si incazza Naturalmente Cioè voglio dire che non lo farebbe E dice Cazzo la giustizia non funziona Quindi me la faccio da solo Prova diciamo a fare un po' il Giustiziere di turno Capisce che gli viene bene Anche perché essendo pure un dottore Comunque conosce bene come funziona il corpo umano E vari cazzi e mazzi E insomma tutto del film si svolge con lui Che deve vendicare la sua famiglia Insomma e tra virgolette proteggerla anche Molto carino Tramma molto semplice Il classico film che mi aspetto appunto dagli anni 70-80 Di gente che pia da de matto E se fa giustizia da solo Cioè ce ne stanno un botto di film così Veramente Soprattutto dell'epoca Cioè tantissimi dai E come trama quindi darò un semplice Sette e mezzo Passiamo ai personaggi I personaggi a dir la verità sono Cinque sei Allora praticamente parliamo di Bruce Willis Che è il protagonista Dottore Persona estremamente tranquilla Si fa i cazzi suoi E niente Semplicemente si vuole vendicare Non c'è altro da dire Oltre al fatto che è estremamente Tranquillo e silenzioso E eccetera eccetera La figlia è tipo Una figlia prodigia della Madonna E tutte cose Che si gode insomma L'essere figlia di un dottore Però Non è cattiva assolutamente È una brava ragazza Anzi Comunque Classica famiglia Pure la moglie Anche se c'è per poco Ricca Ma Ma che non so Stronzi Non Cioè Dei ricchi Carini Simpatici Ok E Poi c'è il fratello di lui Invece che è Un Ex criminale Un po' Coglioncello E cose del genere Che gli sta sempre a chiedere soldi A lui appunto Perché ce l'ha E poi ci stanno i due poliziotti Che sono un uomo e una donna L'uomo è Hank di Breaking Bad E E niente Sono dei poliziotti Che cercano Più o meno Di fare il proprio lavoro E che Secondo me Alla fine Fanno capire che O capiscono che è lui Però C'ha ragione E quindi Fanno finta di niente Cioè Questa è l'idea Che mi hanno dato E Che insomma Non so Molto Non se lo sudano molto Il salario Questi Questi poliziotti Sinceramente Devo dire E Niente Obiettivo Cioè Se è obiettivo Personaggi Darei un bel Sei e mezzo Perché comunque Non è che Risaltino Così tanto i personaggi Anche perché In questo tipo di film Non è che puoi fare Chissà che cosa Un filmetto così Da guardarsi Se vuoi vedere Un po' di azione E quello che vorresti fare È che ti immagini Praticamente Ogni giorno Che vedi uno Che non mette la freccia Tipo No Voi non pensate Quando state in macchina E quello davanti Non mette la freccia Magari Avessi Una calibro 45 Dentro Al Al cruscotto La tiro fuori Adesso gli sparo Chiunque lo pensa Al minimo No Poi non lo fai Perché non c'hai La calibro 45 E anche perché Sei una persona civile Però soprattutto Perché non hai La calibro 45 L'obiettivo sicuramente Era riportare Un film vecchio Che la gente Ha abbastanza Dimenticato Per evitare Insomma Di dover Portare qualcosa Di nuovo Che però È un cult E quindi Funziona sempre È quella cosetta Che dici Ok Tanto sta roba Chi è che non ci ha mai Pensato appunto A prendere la calibro 45 Tutti Quindi Becchi più o meno tutti Difficilmente troverai La persona Che ti fa la morale Che ti dice Però lui Non ha ragione O cose del genere Magari te la fanno pure Ti dicono pure Che è sbagliato Senza spiegarte il perché Perché non è sbagliato Ricordiamoci che Tutte queste cazzate Della civiltà Ce le siamo inventate noi Per romperci le palle A vicenda Perché Se fossi Se fossimo Allo stato obbrato Tutti quanti Tutti quanti Hanno un minimo Distinto Che dice Io questo qua Chiunque Semplicemente Perché te sta un po' Sul cazzo Perché c'ha le scarpe Leggermente diverse Dalle tue Siamo fatti così Te viene voglia Te confiando De botte Quindi È un obiettivo Più che preso in pieno Direi un 8 Dai Un 8 va bene E niente Come voto finale Io direi Che possiamo Azzardarci A dare un 7 Filmetto carino Ripeto Che vi potete guardare Funziona sempre E che guarderete una volta Semplicemente Per passare una sera Ma poi Dimenticherete E fino a che Non rifaranno Un nuovo Film Chiamato uguale Tra 30 anni Abbastanza Lontano Da fartelo dimenticare Ci vediamo Al prossimo video